Sere di gironei ufficiale, già era circolata nei scorsi ore la notizia, adesso è anche ufficiale la cara in programma per il mercoledì 12 gennaio, tra la James Biston e il Trapani viene rinviata data da Destinastri il recupero della sedicesima giornata del campionato nazionale di Sere di nel programma, ricordiamolo, il mercoledì 12 viene rinviata per Covid, l'ennesimo rinvio dunque per questa gara, comunicarlo è stato anche la Lega Nazionale, adesso si attente alla nuova data del recupero, dunque ancora rinvio per la formazione di Massimo Moggia per tornare in campo nel 2022, dunque in poche parole tra James Biston e Trapani la gara è stata rinviata data da Destinastri per Covid-19.